Siamo in compagnia del dottor Giacomo Trivellone, candidato a ricoprire un ruolo all'interno degli ordini dei dottori commercialisti della provincia di Caserta. Quali sono i punti principali del vostro programma elettorale? Mi accingo a rappresentare l'alto casertano per quanto riguarda le elezioni del Consiglio dei commercialisti della provincia di Caserta, in quanto sono stato affascinato dal programma della lista numero 2 ed inoltre ha attirato molto la mia attenzione la parola condivisione. Condivisione significa cercare di allargare il più possibile l'ordine dei dottori commercialisti ai giovani e condividere assieme a loro delle esperienze. Infatti io stesso, questa sarà la mia unica candidatura, in quanto ritengo che bisogna allargare il più possibile le esperienze ai giovani. Che messaggio vuole dare dunque ai suoi elettori? Il messaggio è quello di cercare di votare praticamente la nostra compagine, in quanto per la prima volta l'alto casertano sarà rappresentato nel Consiglio. Fino ad oggi praticamente questa opportunità non era mai stata data, in quanto vi erano i blocchi di Caserta, di Santa Maria e di Aversa. Da quando invece è nato il Tribunale di Napoli Nord, praticamente i colleghi di Aversa si sono staccati da Caserta e quindi facendo parte del Tribunale di Napoli Nord hanno dato la possibilità all'ordine dei commercialisti, praticamente i poli di attrazione sono Caserta, Santa Maria, Capua e quindi l'alto casertano potrà giocare un forte ruolo in quanto potrebbe essere l'ago della bilancia per la vittoria. Dal Vignano è tutto per casertasera.it. Bartolomeo Valentino